Un weekend molto ricco di appuntamenti, quello che si sta consumando tra India, Aragon e Giappone, tra appunto MotoGP, Superbike e Formula 1 sul canale, doppio appuntamento con il recent podcast, questo è quello per quanto riguarda il GP di Formula 1 del Giappone, invece oggi alle 19 parleremo della Superbike, gran premio di Aragon, ma appunto partiamo dall'inizio perché stamattina alle ore 7 a Suzuka si è consumato il quindicesimo gran premio della stagione di la Formula 1 e è tutto tornato evidentemente alla normalità, perché Singapore evidentemente è stata l'eccezione che conferma la regola, se appunto nella cittastato del sud-est asiatico la Red Bull ha fatto fatica con un Verstappo anche sbagliato clamorosamente, il setup complice anche la pista piena di buche cittadina, a Suzuka è tutto tornato evidentemente come da ranghi l'olandese, va a vincere, anzi non a vincere, a dominare una gara scherzando chiunque potesse scherzare e peraltro facendo aggiudicare alla Red Bull il sesto titolo costruttori della storia, questa infatti è la festa dopo appunto la gara che Verstappen ha condotto, il team anglo-osteco della Red Bull ancora una volta è tornato evidentemente a fare quello che sapeva fare, già dal sabato si è visto che Verstappen ne aveva veramente di più e la gara era evidentemente come tutte le altre tranne il Singapore. Verstappen ha dato veramente un'eternità alle squadre avversarie, i più vicini erano quelli della McLaren con sei decimi di distacco, scusatemi, evidentemente come distacco più vicino e dopo la gara era evidentemente già scontata. Una Red Bull o meglio un Verstappen che fa quello che vuole, di contro abbiamo un Perez che veramente ci sta capendo poco e niente perché già il pilota messicano dal punto di vista mentale non ha attraversato un bellissimo periodo, un po' complice anche le dichiarazioni molto discutibili di Helmut Marko nei suoi confronti, anzi più che molto discutibili da condannare in toto, in più Perez si trova ad avere questo compagno di squadra Verstappen che non solo ha la macchina fatta comunque con le indicazioni simili al suo stile di guida e ok è il primo pilota, però comunque è un campionato intero tolte le due gare che ha vinto il messicano, che appunto lo stesso messicano prende veramente la paga non solo dallo stesso Verstappen ma evidentemente anche da altre persone, da altre scuderie. Un pilota del genere con una Red Bull così competitiva evidentemente dovrebbe fare podio a tutte le gare, invece anche oggi ritirato un po' per un incidente in partenza causato dalla prima cura della dinamica della curva, evidentemente di Suzuki in quel contesto, un po' anche per errori grossolani suoi perché questo frame è abbastanza evidente, incidente con K-Mag alla curva del tornantino evidentemente, il messicano prova a entrare per fregare il danese, alla fine non ci sta e alla fine arriva il contatto tra la Red Bull e la Haas e Perez dunque di fatto dovrà ritirarsi e quindi altro zero pesante per quello che in teoria sarebbe il secondo della classifica del mondiale, ma comunque oggi il messicano di certo non era un fattore, chi secondo me era evidentemente un fattore era la McLaren che comunque tolta appunto la gara passata evidentemente ha fatto delle cose molto interessanti, abbiamo visto comunque un Norris a podio a Singapore, non c'era Piastri, oggi però Piastri si è visto perché anche l'australiano ha avuto gli aggiornamenti e infatti c'è un maestro molto importante da festeggiare, infatti il pilota classe 2001 di Melbourne prende il terzo posto in classifica finale della gara e allora celebriamo il terzo posto di Piastri, primo podio in carriera per colui che vinse la Formula 3 nel 2020 e la Formula 2 nel 2021, l'anno scorso ha fatto un anno in panchina, ma appunto già dalle prime gare di quando la McLaren ha portato gli aggiornamenti abbiamo detto attenzione che Piastri è comunque quel pilota molto talentuoso che può sbocciare da un momento all'altro come ha fatto nelle categorie proprio deutiche, in Austria abbiamo visto qualcosa, anche nelle altre gare abbiamo visto un buonissimo Oscar Piastri che dunque insieme a Lando Norris può fare una gran bella squadra in McLaren e infatti nel McLaren non sono mica scemi, Piastri è stato appena rinnovato fino al 2026, è stata una gara comunque che qualche spunto lo ha dato, quantomeno però per le posizioni che non contano perché Verstappen ha dominato, Norris poi è rimasto anche lui isolato in seconda posizione, Piastri poi ha avuto la meglio di George Russell che ha avuto una strategia veramente orrenda perché una sosta sola a Suzuka evidentemente non ha pagato. È sempre un buongiorno per dire che comunque senza Verstappen sarebbe un mondiale un pochino più interessante, a sto giro senza l'olandese avrebbe vinto il mio Lando Norris però avremmo avuto anche delle lotte molto interessanti per il podio perché guardando poi la classifica evidentemente abbiamo avuto una McLaren in lotta, una Ferrari che comunque con la Mercedes era a giocarsela e abbiamo visto tantissimi sorpassi nelle posizioni appunto di centro gruppo, peccato appunto però che in questo mondiale Verstappen appunto ha tolto la gara di Singapore dove comunque ha fatto quinto con la macchina sbagliata appunto venga fatto evidentemente quello che vuole il pilota olandese che dunque arriva a 400 punti puliti in pista a Suzuka, pista dove peraltro l'anno scorso ha vinto il titolo del mondo anche qui dominando. Sergio Perez si ritira e ha un distacco enorme ma ripeto il mondiale è più che platonico e confermo ancora una volta la mia impressione dopo la gara di Suzuka il podio lo completano appunto Lando Norris che conferma dunque il podio di Singapore anche se qui non era assolutamente in lotta per la vittoria ma è stato bravo comunque a sfruttare evidentemente la strategia facendo un contro undercut a Oscar Piast che ne aveva approfittato in regime di virtual safety car e terzo appunto è il pilota australiano che appunto centra il primo podio della carriera ed è un milestone molto molto importante per il classe 2001 di Melbourne. Quarto è Charles Leclerc con una Ferrari che era di fatto la terza forza di questo mondiale se vogliamo considerare Verstappen forza a sé e la McLaren come seconda forza alla fine poi per le altre posizioni era una lotta Ferrari-Mercedes e comunque si è vista una bella lotta in pista a Suzuka con sorpassi alla chicane del triangolo con sorpassi alla curva del cucchiaio al tornantino insomma una bella gara quantomeno però per le posizioni fuori dal podio che appunto in conto macchia di Verstappen sarebbero stati comunque posizioni per terza, quarta, quinta posizione quindi punti assolutamente importanti comunque Leclerc conferma di essere probabilmente uno dei migliori piloti in questo frangente con una macchina comunque non competitiva terzo quarto posto consecutivo per il Monegasco quinto è Lewis Hamilton che comunque arriva in questa posizione dopo uno swap di posizioni con George Russell che ha avuto una strategia veramente orrenda ma l'abbiamo già detto sesto è Carlos Sainz che un po' torna sulla terra dopo la straordinaria prestazione di Singapore e la grandissima gara di Monza qui evidentemente lo spagnolo ne va meno rispetto a Leclerc che comunque meritatamente è arrivato davanti in settima posizione appunto George Russell che diciamo prima arriva in questo punto della pista perché ha fatto una sosta sola cosa scellerata a Suzuka infatti si è visto lo passava veramente chiunque ottavo è Fernando Alonso con un Aston Martin che può contare sempre solo sul pilota spagnolo anche perché anche oggi il grande irreprensibile Lance Stroll si è ritirato mantenendo fede al suo grande nome non a posizione per ovviamente Esteban Ocon con un Alpine che invece si conferma quinta forza totale del campionato perché ancora una volta due macchine a punti a sto giro nono Ocon decimo Gasly tutti gli altri piloti che sono fuori dalla zona punti sono stati doppiati da Verstappen a cominciare dall'idolissimo Liam Loso in unicesima posizione dodicesimo Yuki Tsunoda tredicesimo Guan Jojo e ultime le due Haas con appunto Nico Hulkenberg quattordicesimo e K-Mag quindicesimo appunto K-Mag è stato cilindrato senza ritegno da Perez senza dubbio delusione del giorno di questa gara senza se e senza ma perché appunto già partiva in una posizione non felicissima perché anche in qualificazione Verstappen ha dato veramente un'eternità a Perez Perez di solito con la Red Bull rimonta però evidentemente non era questo il caso aggiungiamoci anche l'errore gratuito sull'incidente al tornatino con Kevin Magnussen e allora ecco spiegato il premio di delusione del giorno il rider o meglio il driver del giorno invece non può che essere il mio Oscar Piastri sapete che io tifo alla McLaren sapete che io Piastri l'ho sempre idolatrato dai tempi della Formula 3 e della Formula 2 ricordo che questo esattamente come Charles Leclerc e George Russell due piloti che dovreste aver sentito nominare in qualche modo ha vinto appunto le categorie propedeutiche al primo anno quindi i crimini del fenomeno ce li aveva era all'epoca junior dell'Alpine è andato a fare il partito di riserva in Alpine poi però l'Alpine se l'è fatto sfuggire è arrivato in McLaren e ha fatto le fortune sta facendo le fortune insieme a Lando Norris in questo periodo storico della squadra inglese con la macchina arancione quindi il contratto per il 2026 è iper meritato è arrivato prima in realtà del podio di Suzuka ma appunto Piastri dimostrando ancora una volta di essere veramente un talento cristallino chi invece ha fatto scelte discutibili e chiudiamo il Racing Podcast in questo appuntamento con la Formula 1 è Alfa Tauri perché abbiamo parlato di Liam Lawson a punti straordinario a Singapore undicesimo oggi a Suzuka davanti all'idolo di casa Yuki Tsunoda che continua a buscarle da praticamente chiunque perché è tolto De Vries Tsunoda le ha buscate sia da Ricciardo sia da Liam Lawson eppure in Alfa Tauri probabilmente capiscono molto meno di Formula 1 rispetto a un team normale e hanno confermato non solo Tsunoda evidentemente per l'anno prossimo ma Lawson rimane pilota di riserva perché Daniel Ricciardo tornerà il prossimo anno in Formula 1 Ricciardo oramai lo ritengo un pilota in parabola discendente e nelle due gare che abbiamo visto in studio di De Vries non ha fatto granché Lawson invece è un pilota molto giovane che invece non solo ha fatto meglio di Ricciardo ma ha fatto meglio anche di Yuki Tsunoda e Lawson partiva come quarto pilota in orbita Red Bull perché appunto Ricciardo era la prima riserva e Lawson era la seconda una volta che Lawson batte due volte Tsunoda arriva appunto in una gara alla terza gara vera della carriera insomma due domande me le sarei fatte per un sedile in Formula 1 tempo pieno quindi a meno che Perez non si ritiri non si rompa le balle perché Perez ha famiglia perché psicologicamente non la sta vivendo bene Lawson aspetterà un futuro ancora di piatto di riserva ma appunto del neozelandese ne sentiremo parlare e mi dispiace veramente un sacco che non sia l'anno prossimo in un sedile di Formula 1 magari proprio al posto di Tsunoda che è anni che è qui e ha dimostrato sempre molto meno di altri piloti che lo hanno evidentemente superato la Formula 1 tornerà invece nella nuova pista del Qatar nuova in realtà per modo di dire perché l'abbiamo visto come esordio assoluto nella stagione del 2020 per quanto riguarda il Covid sarà un esordio assoluto invece come presenza fissa evidentemente in Formula 1 in una trasferta che adesso vedrà sempre solo gare extraeuropee da qui fino a dicembre appunto basterà vedere semplicemente solo quando Verstappen vincerà il titolo del mondo l'anno scorso fu Suzuki quale sarà la gara che proclamerà Verstappen per la terza volta campione del mondo lo scopriremo evidentemente nel prossimo della stagione il saluto da parte di Matthew Torgard ci vediamo a un prossimo video